Buongiorno a tutti, a causa dell'emergenza sanitaria non potremo procedere alla consegna dei premi del bando Ciacchi Lombardia, Lombardia riparte. Questo mio piccolo video messaggio è per ringraziare tutti i partecipanti che in questa seconda edizione siete stati tantissimi. Sono giunti 176 video, 5 dei quali i vincitori. Vincitori ai quali vanno le mie congratulazioni, ma naturalmente a tutti quanti hanno partecipato. Video senza dubbio emozionanti, empatici, molto belli che hanno trasmesso la forza e l'energia di un bellissimo territorio lombardo. Grazie a tutti!